Ciao a tutti! Oggi prepareremo le verdure in agrodolce. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono peperone rosso, melanzana, carota, zucchina, sedano, aglio, cipolla, olio evo, zucchero, sale, pepe, pinoli, uvetta e aceto balsamico. Andiamo in via la ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla e l'aglio ed azioniamo il bimbi per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo l'olio e facciamo insaporire per 4 minuti 120 gradi a velocità 3. Unire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere i peperoni, il sedano, le melanzane, le zucchine, le carote, lo zucchero, l'aceto, i pinoli, l'uvetta, il sale e il pepe. Ed azioniamo il bimbi per 25 minuti. Temperatura varoma, anti-orario, velocità soft, senza misurino. Le verdure sono pronte, impiattare e servire. verdure in agrodolce. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.